bella regà qua è savix che vi parla con la parte 2 per moddare il bricade vi faccio vedere la parte finale ragazzi per next gen come vi ho detto nel video in precedenza dove mi hanno fracassato cazzo youtuber italiani dicendomi come fai chiedere la chiocciola si la chiedo la chiocciola ma poi parli proprio te che sei l'ultimo che devi parlare che ti compri gli iscritti ma va bene andiamo avanti ho chiesto la chiocciola di questo video ragazzi perchè si che il video l'ha trovato un francese non un americano ho sbagliato nel video precedente ma io ho messo uno step in più per far si che il glitch funzioni bene anche su next gen e anche su old gen perchè se no raga state lì a mergiare l'attività 7 anni e a sto punto aggiungo anche perchè siccome in passato un sacco di gente ho visto che prendeva video da me e non metteva la chiocciola allora io ho smesso di mettere la chiocciola degli altri questo è il motivo ragazzi ma questo è un video particolare lo aspettavano in tanti e niente andiamo avanti quindi ragazzi a questo punto questa è la motivazione adesso vi spiego come andare a moddare il bricade una volta che l'abbiamo messo poi nel light quindi andiamo direttamente da ls autoraduno andiamo al carmit e ci richiediamo il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche io userò questa vagrant ragazzi e a questo punto lo passiamo a un nostro amico oppure raga se un nostro amico ha un veicolo che ci piace e noi vogliamo fare il veicolo il bricade con quel veicolo possiamo farlo senza nessun problema io in questo caso voglio farlo con questa vagrant quindi gliela faccio comprare dopodichè raga me la ricompro a sua volta e a sto giro vado a metterla ragazzi sopra al bricade che sta nel B3 che abbiamo preso con il glitch che ho portato stamattina che vi lascio in descrizione mi raccomando ragazzi mettetevi con calma lo fate non è difficile a questo punto una volta che l'abbiamo comprato e l'abbiamo sovrascritto sopra al bricade raga il nostro bricade sarà bello che moddato quindi usciamo fuori da ls e lo andiamo a richiedere e raga una volta che siamo fuori e richiediamo il nostro laboratorio di acidi dai servizi quindi dai veicoli speciali possiamo fare e sbada bam ragazzi avremo moddato il bricade anche su next gen ovviamente raga su next gen è un po' più un casino perché i caricamenti sono molto più veloci io ci ho messo quei 10 minuti in più ma è fattibile alla prossima bella raga ciao 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 ciao